Siamo riuniti tutti in sé per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti in sé per adorare il nome del Signore. Giorno 26, 27 e 28 marzo, presso il campeggio Sion, situato a Caccuri, in località Pragi, è stata meta di circa 500 fedeli provenienti da Napoli, Sorrento, dalla Basilicata e Calabria. Il Centro Sion opera a Caccuri da più di dieci anni e funziona come centro di riunione e, dal mese di giugno ad agosto, come campeggio per i numerosi fedeli che arrivano da ogni parte d'Italia. Siamo riuniti tutti in sé per adorare il nome del Signore. Siamo riuniti tutti in sé per adorare il nome del Signore. A celebrare il culto è stato il pastore della Chiesa di Napoli, coadiuvato dal pastore di Caccuri, il fratello Santoro. Era anche presente alla riunione il professor Felice Antonio Ria di Caccuri e oggi presidente nazionale delle Adi d'Italia. Durante lo svolgimento del culto, il coro di Napoli, formato da più di 40 persone, si è esibito con alcuni canti religiosi in onore del Signore. Alleluia Alleluia Per la preparazione del pranzo si sono adoperati fedeli delle diverse Chiese che hanno provveduto alla preparazione e alla distribuzione dei pasti, a ben 480 persone. Alleluia Una giornata splendida in una zona altrettanta splendida che ha offerto pace e serenità a tutti i convenuti. Il campeggio Sion è una realtà per Caccuri ed è uno dei campeggi più grandi d'Italia dove ogni anno passano e dimorano numerosi fedeli. A fine di questa bella giornata tutti i partecipanti hanno raggiunto la propria destinazione.